Ciao dottore, buonasera. Tutto a posto. Senti, è vero che sono venuto a parlare di l'analisi di mia moglie, però visto che ci troviamo, io c'ho un problema, c'ho da giorno un mal di schiena che proprio mi affligge, mi fa male proprio. Come mai? Come mai? Come mai? Come mai? Dottore, io lo scopo dalla mattina alla sera per pagare le torsi, ce ne sai. E quella è l'ernia del fisco. Mi è venuta, mi è venuta così, mi è venuta. Come stai l'analisi di mia moglie, dottore? Tutto bene, tutto a posto. Tua moglie è incinta. Come dici? No, dottore, non è possibile. Dottore, non è possibile che io sono stato attento, anzi, io sono stato attentissimo, sicuro. Vedi Giovanni, è un po' come quando sei nel traffico. Giovanni? Cioè, tu stai attento, gli altri no. Com'è? 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 Io sono stato attento, di 노력a, gli altri, ancora ci. Non sei comunque. Ma cosa nå, gli altri no. Mo', no gli altri? Mi, mi. Va sembra! Vabbè, vabbè, vabbè. Vabbè, vabbè, vabbè casa.